Continuiamo con l'opposizione con Vittorio Bertola che è capogruppo del Movimento 5 Stelle. A lei Vittorio Bertola. Certo, ma il Movimento 5 Stelle è entrato in Consiglio Comunale per la prima volta cinque anni fa all'opposizione con due sole consiglieri su 40. Però nonostante questo il Movimento 5 Stelle ha lavorato molto e bene direi. Ha fatto un lavoro di osservazione e trasparenza e anche denuncia dei piccoli grandi scandali e misfatti di questa amministrazione. Ricordiamo il caso della dirigente comunale che poi ha dovuto dimettersi perché si è scoperto che affidava i lavori a suo figlio. Ricordiamo il caso del portavoce del sindaco Fassino pagato 180 mila euro l'anno. Ricordiamo anche la vicenda già citata della cittadella della Juventus alla Continassa. Bellissima opera però per cui la città ha svenduto i terreni facendoli pagare 58 centesimi di euro al metro quadro. E queste sono tutte informazioni, casi che sono stati scoperti e portati alla conoscenza dell'opinione pubblica dal Movimento 5 Stelle. Però non ci siamo limitati a questo. Pur non potendo imporre niente, essendo soltanto in due, abbiamo fatto anche delle proposte e molte di queste sono state approvate. Ricordiamo ad esempio il fatto di dare priorità ai disoccupati nella scelta degli escrutatori alle elezioni. Ricordiamo il fatto che per la prima volta dopo 20 anni finalmente la città si doterà di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche. O anche l'idea di garantire su tutte le linee di tram, nonostante i tram siano vecchi e non siano mai stati cambiati, quindi ci sono quelli che sono, però almeno un mezzo accessibile su due per i disabili. Anche la pedonalizzazione di Via Roma, che è l'unica pedonalizzazione fatta da questa amministrazione, è stata fatta a seguito di una mozione approvata, presentata dal Movimento 5 Stelle. E poi in generale abbiamo fatto rappresentanza nel senso vero. Siamo stati la voce di centinaia, migliaia di cittadini che sono venuti da noi a raccontarci i loro problemi e per cui noi abbiamo fatto atti, abbiamo presentato più di 800 atti in questa consigliatura. Io sono il consigliere comunale più presente, ho superato la soglia delle 3.000 presenze tra consiglio comunale e commissioni mai successo prima nella storia della Sala Rossa e quindi insomma in sostanza abbiamo lavorato e ci siamo preparati e crediamo di avere appreso quanto necessario per essere credibili come proposta di governo per andare ad amministrare questa città nei prossimi 5 anni. Grazie a Vittorio Bertola, staccanovista della Sala Rossa, perché ha messo un po' di sale e pepe anche a questa tribuna elettorale.